Stasera Dreadzone, il team Darkstar si prepara a raggiungere l'Etherrio Stili del Geneta Quello che un tempo era solo un noggiosissimo tempio antico, oggi è il fulcro del nostro nuovo esplosivo percorso di combattimento Ratchet dovrà completare le sfide più letali di Dreadzone per guadagnare l'accesso al tempio Ma anche se dovesse farcela, nessun concorrente è mai uscito di moda per tempio in questa stagione Una vittoria oggi manterrebbe il team Darkstar in corsa per il campionato e per sfidare Ace Hardline Amici, siamo nel vivo dell'azione Il vento sta soffiando e la neve sta cadendo Il tempo ideale per una sauna Ratchet riprogramma quelle sfere di sicurezza per attivare il ponte Ratchet riprogramma Il tempio... Il tempio... Guardate come Ratchet controlla il Land Stalker Guida come mia nonna Oh, l'esplosione, il fuoco è mazzato! Questa è Dreadzone, amici! Mi chiedo se il Land Stalker ha il cambio manuale o automatico? Puoi passare su una piattaforma veicolo in qualunque momento per riparare i danni Il Land Stalker è capace di spiccare degli impressionanti balzi Inoltre può schivare i colpi dei nemici saltando lateralmente Non si vende la bistecca ma la cottura! Il Ratchet è caldo! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.